Ciao ragazzi, mio nome è Antonio Tullio, sono 30 anni. Questo video è per la competizione di kettlebell sport online dell'India, agosto 2022. La mia competizione è 5 minuti. Prima di iniziare la mia competizione, vengo per controllare il mio peso del corpo e il peso del kettlebell. Grazie mille. 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 Grazie. 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 Grazie.